Ciao amici di connessioni, sono Emanuele Pollastri di Vumi Networks e siamo per il secondo anno di fila qui a ISE per presentare la nostra ultima creatura di Content Management System per Digital Signage. Il nome che abbiamo scelto quest'anno è Vumi Jade, ovvero abbiamo cambiato nome al sistema dopo tanti anni con il nostro sistema Vumi4 a significare i grandi cambiamenti che abbiamo introdotto nel nostro sistema. Sistema che oramai vede applicazioni trasversali dal retail fino al corporate e novità di quest'anno abbiamo introdotto anche una standard edition che oltre agli usuali player di Spinetics riesce a utilizzare anche i monitor webOS di LG. Con il nostro sistema quest'anno abbiamo quindi cercato di accontentare tutto lo spettro sia degli integratori che dei loro clienti finali, quindi andando da applicazioni semplici di video looping fino a applicazioni complesse di gestione e promozioni sui punti vendita e fino addirittura a sistemi di wayfinding negli ambienti cosiddetti enterprise o corporate.